Dove si va? E c'è da sia! Cordova riuscirà a riparare la bussola. Oh, ci scommetterei dei crediti. Hai crediti da scommettere? Che cosa vorresti dire? T'Analor. Ci siamo quasi. Sono curiosa di vedere T'Analor. Oh, anch'io. Ma non provare ad aprire una scuola per streghe. E soprattutto non invitare le tue simpatiche sorelle. Ma sono già qui, Gris. Torno a te. Ho percepito qualcosa, Gris. L'hai sentito? Stai scherzando? Bene, stiamo arrivando. Mettiti a sedere. Stai scherzando la scuola per 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 la scuola. Grazie. Maestro Cordoba, la ganghera aveva l'ultima bussola, ma è... Danneggiata. Non ce l'ha proprio consegnata. Questa può essere riparata. Comincerò subito. BD! BD! Lasciamo che il maestro si concentri. Conosco un bel posto. Bene. Ehi! Ho portato altro tè, però ecco, è un po' pesante. Se qualcuno volesse darmi una mano, sarebbe bello. Oh, grazie. Oh, ah, ah, molto divertente. Bene, ecco qui il secondo giro. Che ne pensate? È forte. È molto dolce. Ci farai l'abitudine. Ehi, Sir. Perché non vieni con noi su Talalor? Non c'è dimora migliore per l'archivio e il cammino segreto. Qualsiasi cosa avvia in servo il futuro, la affronteremo insieme. Sì. È un nuovo sentiero per tutti noi. Cal, il maestro Tapal sarebbe fiero del Jedi che sei diventato. Ho avuto una buona insegnante. Ascoltate. Il cammino segreto ha una nuova casa. A Talalor. A Talalor. Aspetta un attimo, Sir. Significa che vieni anche tu. Sì, Grisa. Anzi, vado a preparare gli archivi per poterli trasportare. Si sta facendo tardi. Vengo con te. Dimmi, dov'è la Mantis di preciso? Questo posto è terrificante di notte. Ti accompagnerò io. Grandioso. Ma, ehi, niente cose inquietanti, va bene? Sir, gli anacorati verranno davvero con noi? Ma certo, sì. La nostra famiglia sta crescendo con un sacco di zii e zie inquietanti. Ce l'abbiamo fatta, Bod. Già. La bussola sarà come nuova. C'è qualcosa che ti preoccupa. Mi conosci bene, Rottamatore. Stavo pensando a Kata. Se prendono cura di lei, ma... è sempre dura quando ritorno. Quando vedrà quello che hai fatto per lei, capirà. Lo spero. Forse dovremmo andare prima noi, su Tannalor. Così controlliamo che sia sicuro per gli altri. Prima aiutiamo il cammino segreto a trasferirsi, meglio. Dobbiamo mantenere il vantaggio sull'impero, no? Già. Ehi. Domani avremo una nuova casa. Non ce l'avrei fatta senza di te. Grazie, fratello. Sì. Io vado a registrare una favola per Kata. Passa una buonanotte. Te lo meriti. Che panorama, eh? Di notte il deserto sembra infinito. C'è qualcosa di affascinante nel vuoto. Ora parli come un Jedi. Alle volte avevano ragione. Non su tutto. Senti, l'ordine è caduto. È ora di lasciarselo alle spalle. E ora so che cosa voglio. Ci hai messo un bel po'. Passiamo un bel po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forze imperiali da ogni lato. Ci hanno trovati. Fa scappare tutti. Li terrò impegnati finché... Bot. Mi dispiace tantissimo. Cosa? Figliolo. Figliolo, non sei costretto a farlo. No! Maestro Cordova! È morto! Bud ha la bussola, inseguilo. Vai! Bud! Bud! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quei camminatori puntano all'Archivio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per questa! Abbiamo lottato insieme per averla. E adesso vuoi consegnarla all'Impero? Non voglio darla all'Impero. Tu hai ucciso il Maestro Cordova! Cal, non hai tempo per combattere. Qualcosa di terribile incomme sull'Archivio. Ascolta il tuo istinto. Sai che ho ragione. Che cosa hai fatto? Se vuoi proteggere la tua famiglia, devi portarla via da lì. Subito. Che cosa? Non può essere. Non sei l'unico a essere sopravvissuto. Non sei l'unico a essere sopravvissuto. Mi denudi, Cal! Letto! Non sei l'unico a essere così. Oh! Oh! Seve! Seve! Sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Dobbiamo difendere l'hangar fino a evacuazione ultimata. Perché le difese della base sono spente? Molto strano. È finita. Guarda, camminatori! Non sfonderanno il cancello principale. Non sfonderanno il cancello principale. I primi erano tutti noi, dal primo all'unico. Rispensiamo! Sali, dobbiamo fermare i camminatori. Restano dei detonatori termici. Recevuto! Sì, combattiamo, sì! Dobbiamo distruggere i camminatori. Siamo in mezzo! Siamo in mezzo! Hai attirato l'attenzione? Al piano di sopra ci sono altre munizioni. Bene, ci servirà. Noni ecco. Perfetto! Se ce l'è atleta! Tenete sulla testa! Una spettacione! i camminatori stanno per sfondare il perimetro questo li farà rallentare maestra genna l'impero ha fatto breccia nei tunnel e sta cercando di aprirci marin o 3d Quanti morti. E ce ne saranno molti altri se non proteggiamo Langan. Cordova. Vorrebbe che salvassimo il più possibile dall'Archivio. E i codici di contatto. Non devono finire in mano all'Impero. Costi quel che costi. Attacco! E ha messo la messa dai suoi fronti! Avrà! Per datomi! Colpo diretto! E' stato alleato a terra! Stanno aprendo il cancello. Allora li fermeremo. Iperiani in attimo! Fuoco! Approvo tutte le granate! Imponete solo in volere di aspera. Hai paura? Ti prenderò! E adesso? Scendiamo all'Hangar. Ottimo lavoro. Anche tu. Gris, mi ricevi? Sir, che bella sorpresa! Resta sulla Mantis mentre noi pensiamo all'Hangar. Ricevuto. Buona fortuna là fuori. Hanno scontato il cancello! Respingiamoli! Attenzione! All'attacco! Presto troverò un barco. Avvio attacco! Attenzione! Però faccia male! Continua a combattere! Morirò qui se devo. Una battaglia! Vecchie! Come lo abbiamo vinto? Non ci vanno! Questi non spareranno più! Fuoco! Dovrai cedere! Ce ne sono troppi! Abbi fiducia! Li fermeremo! Pericolo in arrivo, Sir! Arrattami! Astuto! Arrivano! Ci siamo! Sono arrivati! Posso trattenerli! Aspetta l'arma! Ora basta! Quelli distruggeranno l'Hangar! Allora volciamo tutto a nostro vantaggio! Oh cielo! Come sono felice di vedervi! Grazie per l'aiuto! Novità da Kall? Ancora niente! Sicuramente sta bene! Probabilmente ha solo chiuso le comunicazioni! Sir! E adesso? Fuggiamo prima che ne arrivino altri! Poi ci ritroveremo al punto d'incontro! Prima devo tornare all'archivio! I codici di contatto del cammino segreto! Verrò con te! No! Ho bisogno che tu rimanga a difendere la Mantis! BD! Va con lei! Tieni i motori accesi, Grise! Farò presto! Ehi, Sir! Io ti aspetto! Puoi farcela! Grazie, Grise! Buongiorno! Grazie. Grazie.